Allora avrete a recensirvi altri prodotti della settimana e vi ho recensito un paio di prodotti Un'altra volta oggi per recensi scopresti che uno è il Degox morbidente concentrato con frosce protezione difende dai cattivi dolori, morbidezza, profumo di acqua, profumo avvolgente, campo di lavanda e niente mi piaciuto, molto, molto buono, vabbè, non lo ne scocchiamo, però quasi, mi piace e direi che è persiste sui papi, mi piace molto e il suo speculato lo fa veramente, mi sarà piaciuto, questo è molto buono e ve lo consiglio Poi, ah questo è, non ve l'ho detto, 33, vabbè, della magica, non ho idea, penso di sì, 660 velo il prodotto, vedete, aspettate un attimo se non so se ve lo mette, ecco qua dove deve stare, ecco qua, 666 mm il prodotto, eccolo qua e poi c'è quest'altro Vidal, scusate se avete letto ma vi devo far vedere i prodotti più che altro, il Vidal, il Vidal mi è strappiaciuto, lo ricompro? Forse, non ne ho idea e questo è l'exoctive, exoctive, love, emotion, emozione, vabbè, insomma, a me è piaciuta e basta, mi ha dato tante emozioni, anche questo, diciamo, non è verità ed è molto buono sì e poi si ha una profumazione che è irresistibile quindi è wow top questo qua è il flaconcino ovvero il suo disegno come potete ben vedere e ce n'è come tutti i vidal aspettate che vi sto potendo andare in mano non il flacone 500 mole il prodotto per 12 mesi di paolo intanto io l'ho consumato tutto perché ovviamente mi è stato piaciuto top e niente ragazzi ciao a presto un bacio e alla prossima ciao